Abbiamo cercato di fare questo evento che esce un po' dagli schemi nostri, dei soliti mercati e delle solite scene e mercatini, per vedere di dare un'importanza diversa anche alla cultura, che è una parte importante della vita nostra. Nove incontri letterari, undici libri, altrettanti autori di fama nazionale e internazionale, arriveranno ad Arezzo per l'Arezzo Mullite Festival, l'evento ad ingresso gratuito organizzato da Confesercenti con la Feltrinelli Point sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi. Sarà un programma estremamente eterogeneo, fluido, in modo da poter capire spunti culturali diversi e attrarre anche tipologie di persone interessate a declinazioni diverse del fenomeno culturale, in questo caso editoriale. Sono ospiti veramente di primo piano, sia per quanto riguarda il panorama nazionale, ma anche internazionale, perché avremo appunto Alan Friedman, Peter Stein, la famiglia Piano, quindi insomma, oltre a tanti altri, ci saranno veramente occasioni di ambire ad essere uno dei punti di riferimento anche negli anni prossimi, quindi nello sviluppo di questo festival, per quello che riguarda i grandi festival nazionali e quindi collocare Arezzo in una dimensione dal punto di vista delle presentazioni di libri e quindi insomma dell'interazione con la cultura veramente di primo piano. L'evento che si svolgerà nel Palazzo di Fraternita con il patrocinio della Camera di Commercio del Comune di Arezzo e la collaborazione di Fondazione Arezzo in Tour, Discover Arezzo e il contributo della Banca di Anghiari e Stia di Italia Confidi, Estra e Italplan, inizierà giovedì 21 luglio alle 19 con Carlo Piano e l'intervento a distanza di Renzo Piano. Si prosegue poi con Gabriella Genesi, Matteo Giusti, Giampaolo Simi, Francesco Recami, Peter Stein, Simone Tempia, Giacomo Gorini, Alan Friedman e un appendice il 29 di luglio con Giorgia Soleri, modella e influencer nota per le sue posizioni a difesa della condizione femminile. Secondo noi Giorgia Soleri, che è comunque una figura femminile in questo momento molto popolare, molto conosciuta e è al suo primo libro, quindi ci sembrava molto interessante dargli questo spazio per approfondire anche questa parte di conoscenza, oltre che quella social come influencer, come modella, come attivista anche per tanti temi come quello della salute femminile, come tante altre questioni legate per esempio all'anticonformismo, all'immagine della donna. Credo sia un personaggio molto interessante da conoscere, vorrei che non ci si fermasse all'apparenza, credo che non lo vorrebbe neanche lei, comunque io ci tengo particolarmente a dire che a mio avviso è una ragazza giovane che comunque ha avuto anche il coraggio, la forza e la determinazione di portare avanti i temi per nulla scontati, per nulla conosciuti e che invece credo che possa avere anche in questa occasione magari un modo di parlarne e magari di farli conoscere naturalmente oltre alla presentazione del libro in sé.